Tiraggio a supporto della carta della settimana, come posso guardare oltre ciò che già conosco? Queste carte sono state estratte, dato che la carta della settimana era il 3 di bastoni, è il 3 di bastoni, dato che ci accompagna fino alla fine appunto di questa settimana. E abbiamo parlato di alcune caratteristiche di questa carta che devono aiutarci comunque a vivere al meglio le frequenze dei prossimi giorni, espandere le prospettive. Era forse l'aspetto più grande che veicolava il 3 di bastoni, che appunto invita a guardare oltre quello che già conosciamo, il che significa sperimentare nuove idee, sperimentare nuovi luoghi, sperimentare nuovi approcci, ampliare l'orizzonte, imparare da nuove esperienze. Io avevo anche consigliato il viaggio come momento importante, perché quando parliamo di far esplodere la nostra energia può sembrare qualcosa di particolarmente astratto. In realtà sì, c'è un aspetto mentale o spirituale per il quale possiamo anche parlare di un viaggio spirituale, ma per le persone che devono muoversi oppure sono indecise se muoversi o meno, fatelo, muovetevi, iniziate a spostarvi o a pianificare uno spostamento. Infine, avevo dato anche molto valore alla comunicazione. Nei prossimi giorni è importante esprimere chiaramente quelle che sono le tue idee, quelli che sono i tuoi obiettivi con gli altri. Ma chi sono questi altri? Possono essere delle persone che ti circondano e che quindi hanno una grande importanza all'interno della tua quotidianità. Però ricordati anche che può essere la tua rete sociale. Rete sociale significa che sono persone che tu puoi incontrare su base quotidiana, non sono persone che hanno una rilevanza all'interno della tua vita, però strutturano comunque le tue giornate. Allora, parlare chiaramente anche con queste persone. Ora, quando noi andiamo a chiedere al tarot come posso guardare oltre ciò che già conosco e vediamo mondo, luna, peso, ovviamente tiraggio fatto esclusivamente con gli arcani maggiori, il messaggio è abbastanza chiaro. Come al solito, questi tiraggi li faccio in modo molto semplice per permettere a tutti di capire. Quindi, se guardiamo già il mondo, andando a vedere magari una criticità di questa carta, beh, questo può essere il fatto di sentirsi intrappolati in una visione limitata del nostro mondo, delle nostre cose, della nostra quotidianità. Vediamo anche che la donna del mondo sta toccando la mandorla, quindi in un aspetto negativo può essere anche un senso di claustrofobia. Ecco che per guardare oltre ciò che già conosci magari devi superare quelli che sono i confini che ti autoimponi, quanto ti senti segregato all'interno del tuo mondo. E poi abbiamo questa luna, questa luna che sfugge alla realizzazione del mondo e può rappresentare quindi l'irrazionalità o forse un aspetto limitato dell'immaginazione. Allora, guardare oltre richiede l'apertura a ciò che potrebbe non essere immediatamente evidente. Per esplorare quindi il tuo mondo interiore, puoi esplorare dapprima i tuoi sogni, le tue intuizioni e puoi farlo anche con strumenti come i tarocchi. Non tutto è come appare in superficie, non tutto è come appare alla luce del sole. Capisci questo e capisci l'energia del tiraggio. Quindi delle nuove verità potrebbero venire solo se segui il tuo intuito, il tuo istinto. E infine abbiamo l'appeso. Un arcano che suggerisce un cambiamento di prospettiva attraverso la riflessione, attraverso la meditazione. Quindi questo guardare oltre, andare oltre, può richiedere la pazienza e la capacità di vedere le cose da tante angolazioni e tante prospettive. Forse devi mettere da parte le tue convinzioni attuali quando ti sei radicato nel tuo punto di vista e considerare quelli che sono nuovi approcci, nuove idee. E allora possiamo concludere dicendo che per guardare oltre ciò che già conosci devi superare i limiti mentali autoimposti che ti fanno sentire segregato all'interno del tuo mondo. Forse esplorando il tuo intuito, esplorando la tua immaginazione, esplorando il tuo mondo interiore. E questo ti porta a vedere le cose da prospettive diverse, da prospettive più ampie, da altre angolazioni. Quello, quando diciamo, oltre ciò che già conosco, l'appeso quello fa, va oltre ciò che già conosce. Tiraggio molto bello, molto semplice anche da capire e spero che entri in risonanza con la maggior parte di voi. Mi raccomando, come dico sempre, vi invito a personalizzare questo tiraggio estraendo voi stessi delle carte con il vostro metodo di lettura, con i vostri tarocchi, con i vostri significati. Non importa, ma fatelo. Connettetevi con i tarocchi su base quotidiana. Connettetevi con i tarocchi su base quotidiana.